4 per te, solo per te, la Catania! Enzo Stroscio, Globus Television. Cosa tema adesso l'Akragas o il pubblico seracusano che penso che verranno a dare dei disturbi al Catania? No, noi siamo abituati ormai, i ragazzi hanno una corazza, sono abituati ormai a affrontare ogni tipo di ambiente, quindi sicuramente più l'Akragas perché è una partita, è la classica buccia di banana che noi dovremmo essere bravi a schivare perché è una partita che al 100% abbiamo tutto da perdere e zero da guadagnare e quindi sicuramente, come è giusto che sia, non ci regaleranno niente, anzi faranno anche loro la loro partita della vita come spesso succede a chi ci affronta e quindi ci vorrà sicuramente la massima attenzione da subito, partire subito in una certa maniera, anche come avevamo fatto lunedì, cercando di sbloccarla il più velocemente possibile, il prima possibile, perché chiaramente ci darebbe poi la serenità per poter affrontare i restanti minuti di gara. L'ultima domanda, giochiamo tutti in contemporanea, cosa hai previsto di togliere? Cellulari, iPad? No, no, per noi non cambia niente già da un po' di partite, nel senso che il nostro destino è legato a dover vincere ogni partita e quindi non è che dobbiamo tanto star lì a sentire cosa fanno gli altri e cosa non fanno gli altri, noi dobbiamo vincere, dobbiamo fare noi quello che dobbiamo fare, poi il resto lo vedremo a fine gara, non è una domenica dove mi aspetto che si possa recuperare qualcosa in termini di punti, credo che sarà una domenica dove tutte le tre squadre potrebbero vincere e che quindi per questa domenica qua non cambi la classifica. Cristiano è una nota di colore, era da molto tempo che il Catania non aveva una curva ben coreografata da stescioni, da bandiere, da colori rossazzurri, che impressione hai avuto tu e che impressione hai avuto la squadra che ha rivisto 15.000 spettatori che hanno tifato Catania fino alla fine? Guarda, la prima sensazione è quando ho visto la curva così, mi sono girato a Vanigli e gli ho detto se invece di fare l'allenatore facessi il centro avanti stasera farei due gol sicuramente, è perché è stato proprio uno stimolo forte, vedere uno spettacolo del genere e aver la voglia di vederli anche esultare, quindi mi sono girato, ho fatto la battuta e ho detto oggi rimpiango di fare l'allenatore perché se avessi fatto il centro avanti ancora stasera avrei fatto due gol sicuramente. Però penso che insomma i ragazzi abbiano, veramente guarda, è veramente una questione di risultato, cioè dato contro solo risultato perché poi per il resto non è paragonabile una partita per dire come è stata con la casertana o una partita come è stata, mi ricordo l'altra in casa, con la sicula Leonzio. C'è stata tutta un'altra partita e anche l'avversario era un avversario chiaramente di livello superiore in questo momento rispetto alla sicula quando l'abbiamo incontrata e alla casertana quando l'abbiamo incontrata. La squadra secondo me ha fatto una prestazione mentale importante, una prestazione fisica importante perché per tutti i 95 minuti ha corso e fino all'ultimo ha cercato la vittoria. Il dispiacere più grosso è proprio il non aver potuto sentire un boato in quella situazione lì del gol perché sarebbe stato sicuramente emozionante, però come ho detto lunedì e lo ridico oggi più convinto che mai si è leggermente complicata ma non è ancora compromessa. A Siracusa ci saranno dei boati interni allora? Ci saranno dei boati di silenzio, però purtroppo il calcio moderno purtroppo causa anche questi inconvenienti qua di dover giocare praticamente a porte chiuse. Però io credo che sarà complicato, però lo ridico perché ha sempre portato bene. bisogna vincere questa partita senza se e senza ma, senza tifosi, con lo stadio chiuso o lo stadio aperto. Noi abbiamo troppo bisogno di vincere questa partita per poi preparare quella dopo in una certa maniera.